costruire un'altra società. In economia c'è un paradosso che va sotto il nome di paradosso di von Wieser. Friedrich von Wieser è un economista austriaco il quale ha dato questa immagine. Pensate a un paese in cui c'è una falda acquifera infinita, inesauribile. Ebbene nessuno avrebbe interesse a sfruttare quella falda acquifera proprio perché è inesauribile, perché se la sfruttasse, se provasse a sfruttarla non avrebbe alcun ritorno economico dallo sfruttamento. Questa cosa, quest'idea va sotto il nome di paradosso di von Wieser. Ecco immaginate che in quel pozzo invece di acqua ci sia appunto energia. Se trovassimo, secondo l'economia, secondo l'economia classica, secondo la nostra economia, se noi trovassimo una fonte energetica infinita non avremmo interesse a sfruttarla. Io trovo questa idea profondamente stupida, però è quella che è alla base di ciò che viene studiato, insegnato, pensato, elaborato e diffuso nelle nostre università. Noi avremmo, con la tecnologia attuale, senza pensare alle nuove energie, energie pari a, utilizzando il solare nei deserti, sfruttando soltanto l'1% dell'energia del sole che cade nei deserti, potremmo avere energia pari a 10 volti di fabbisogno attuale. Perché von Wieser elabora questo paradosso? Il problema è la logica della scarsità. una cosa, intanto ha un valore economico in quanto è scarsa, il che significa che tutto entri, tutto quanto entra in economia deve essere scarso, perché altrimenti non può entrare in economia. E allora tutto diventa scarso, diventa scarso l'energia, diventa scarso il denaro, diventa scarso il cibo, diventa scarsa l'acqua, diventa scarsa tra un po' anche l'aria, perché soltanto rendendo la scarsa possibile trarne un profitto.